buongiorno ragazzi benvenuti alla lettura per il segno dei pesci e andiamo anche oggi a vedere per coppia e per single che cosa accadrà questo mete e intanto io vi ricordo che per avere una sessione privata con me ho un pacchetto che comprenda life coaching e analisi karmica o in alternativa se volete diventare i miei studenti di qualcosa quindi tarologia psicoevolutiva con il metodo maya oppure val volete studiare psicologia karmica ed energetica e diventare esperti di anime gemelle fiamme gemelle oppure volete fare magia d'amore telepsichia e quindi imparare tecniche di condizionamento mentale ovviamente stiamo parlando di antichissime arti magiche antichissime significa conosciute da sempre ed ancora prima che il genere umano fosse creato su questo pianeta io vi invito ad andare sul sito internet e oppure a inviarci una email una brevissima parentesi quando dico prima che il genere umano fosse creato su questo pianeta io intendo il fatto che la nostra razza non è la prima razza umana esistente e oltre alla razza umana c'era già qualcun altro prima ma questi sono temi un po un po particolari quindi non approfondiamo in questa sede prendiamo una carta angelica invece e cominciamo a fare la nostra lettura per il mese per questo mese per il segno dei pesci e come energia generale abbiamo la regina di spade rovesciata regina di spade rovesciata come energia generale significa che qualcuno deve fare quattro chiacchiere sia che voi siate single sia che voi siate in coppia questo è un mese nel quale sono molto delicate è molto delicato l'ambito della comunicazione l'ambito dell'espressione di ciò che dobbiamo dire di ciò che vorremmo dire ma soprattutto del modo in cui lo diciamo perché qui stiamo proprio lavorando sul modo in cui noi diciamo le cose che però non dobbiamo essere superficiali cioè non dobbiamo pensare che se qualcuno ci dice stai sbagliando a dirmi le cose in questo modo noi dobbiamo semplicemente dirle in un altro modo non è quello il punto il punto è che il modo in cui noi ci esprimiamo molte volte dipende dalle emozioni che proviamo e quindi non si può controllare il modo in cui parliamo se non controlliamo le emozioni se non lavoriamo sulle emozioni perché poi non si tratta di controllo si tratta di si tratta di essere coscienti delle proprie emozioni si tratta di saperle gestire si tratta anche di saperle elaborare o di saperle manipolare cioè quando noi usiamo la parola manipolazione non è una cosa negativa la manipolazione in senso assoluto non è una cosa negativa la manipolazione diventa qualcosa di negativo di brutto quando noi la usiamo a fini egoistici e creiamo danni ad altri ma in realtà tutto è manipolazione la comunicazione è manipolazione se io parlo con la mia migliore amica e le dico facciamo una torta al cioccolato e lei dice sì io sto manipolando la realtà cioè sto facendo sto creando le condizioni per creare una torta al cioccolato quindi qui quello che noi dobbiamo fare è imparare a gestire le nostre emozioni e di conseguenza appunto potremo essere agevolati nel modo in cui poi esprimiamo ciò che dobbiamo esprimere altrimenti si rischia comunque di risultare magari troppo diretti troppo aggressivi troppo troppo magari non noi ma l'altra persona quindi comunque questo è un qualcosa da tenere presente in linea generale sia che state da un lato sia che state dall'altro lato sia che siete voi quelli un po più aggressivi verbalmente sia che sia l'altro più aggressivo verbalmente non importa se noi abbiamo una ottima autogestione di noi stessi possiamo controllare qualunque cosa possiamo gestire bene qualunque cosa il consiglio che vi do guardando questa carta ovviamente è di non irrigidirvi troppo perché la regina di spade non è solamente colei che usa le parole ma è anche colei che usa i pensieri cioè le spade sono l'elemento aria e quindi tutto ciò che riguarda l'aria pensieri parole immaginazione idealizzazione creazione mentale visualizzazione ora qui con questa regina di spade quando questa figura è rovesciata ciò che si rischia è di irrigidirsi troppo nei propri pensieri perché già la regina di spade anche quando è diritta è una tipa un po rigida non il male non il male anzi è una rigidità sana perché è una di quelle rigidità che servono per proteggere se stessi per proteggere le persone a cui teniamo per proteggere le proprie idee le proprie convinzioni e per portare avanti appunto il e per manifestare il proprio potere personale quindi è importante la questa forma di rigidità tipica della regina di spade molte volte serve proprio per impedire ad altri di prendere il dito con tutta la mano quindi assolutamente sana quando invece però questa regina di spade si rovescia ma ciò che si rischia di fare è di diventare troppo critici iper critici nei confronti nostri di noi stessi nei confronti degli altri o magari di appunto cristallizzarci troppo in una determinata opinione quindi di perdere la capacità anche di guardare altre opzioni di cambiare idea di rivedere le nostre opinioni e questo non fa bene non fa bene in realtà bisogna sempre comunque mantenere una certa flessibilità non tanto per scendere a compromessi nella vita no non vi consiglio quello ma per essere pronti comunque a cambiare idea nel momento in cui vediamo che in effetti è giusto così nel momento in cui vediamo che è meglio così o che qualcun altro potrebbe addirittura avere ragione su una questione di cui stiamo parlando quindi non siate semplicemente siccome c'è questa energia nell'aria l'unica indicazione che posso darvi perché le letture di tarocchi servono a questo ragazzi le letture di tarocchi servono solamente in parte in minima parte a prevedere il più probabile futuro in realtà le letture di tarocchi quando sono fatte bene è da un tarologo cioè non da un cartomante ma da un tarologo servono per dare dei consigli mirati che permettano a tutti di gestire l'energia presente nel modo migliore quindi se c'è un'energia da regina di spade rovesciata che può causare anche qualche lite se viene usata male ciò che io vi dico è fate voi immettete nell'universo l'energia esattamente opposta cioè cercate di ammorbidire un'energia eccessiva con l'intenzione con le vostre intenzioni con i vostri pensieri con le vostre emozioni con la vostra volontà di avere una bella vita e quindi ecco che sapere prima che durante questo mese potrebbe esserci un'energia pericolosa dal punto di vista verbale vi aiuta sicuramente a prepararvi mentalmente e emotivamente a mantenere invece tutto un po' più fluido evitare quindi di fare irrigidire le discussioni o le relazioni con gli altri in modo tale da viverla molto ma molto più serenamente nella colonna di sinistra vediamo un po' adesso che cosa c'è nella colonna di sinistra abbiamo una persona che si sente come il re di coppe prova il 4 di spade rovesciato o desidera il diavolo agisce come il carro rovesciato e ciò che non dice è l'8 di denari rovesciato dall'altro lato abbiamo una persona che si sente come il mondo rovesciato prova il 10 di bastoni rovesciato desidera il 7 di bastoni si comporta come il 2 di denari e ciò che non dice è il 6 di denari rovesciato quindi cominciamo subito e vediamo per chi è in coppia che cosa sta accadendo questo mese allora per chi è in coppia possono esserci delle conversazioni molto interessanti e molto importanti fra i due partner anzi credo veramente che sia una buona una ottima occasione per chiarire delle cose che forse sono rimaste un po' in sospeso o in comprese per diverso tempo invece qui si tratta proprio di tirare fuori e soprattutto tirare fuori nel modo giusto perché quando c'è l'amore quando ci sono i sentimenti si trova sempre il modo di dire le cose nel modo giusto e di affrontare una conversazione a cuore aperto piuttosto che a mente chiusa quindi mente aperta cuore aperto non chiudetevi soprattutto con queste energie cercate proprio di rimanere fluidi la persona che si trova da questo lato è un partner è un partner molto innamorato è qualcuno che ormai ha raggiunto ha raggiunto le sue consapevolezze sulla coppia sa cosa prova sa bene quanto tiene all'altro non ci sono dubbi su questo e vorrebbe che questa relazione rimanesse per sempre quindi ci tiene davvero tanto all'altra persona desidera che faccia parte della sua vita desidera continuare ad andare avanti insieme desidera creare qualcosa insieme andare avanti e anche quando ci sono degli ostacoli anche quando ci sono delle difficoltà comunque qui si tratta di qualcuno che non ha nessuna voglia di mollare si tratta di qualcuno che punta tutto sulla relazione o comunque che punta gran parte di sé sulla relazione e quindi spera ovviamente che i suoi sacrifici il suo lavoro, il suo impegno vengano ricambiati con lo stesso impegno dell'altro in questo caso in particolare appunto si tratta di due partner che verranno tra virgolette sfidati dall'universo nel senso che le anime devono imparare qualcosa e questo mese si tratterà di imparare tramite la comunicazione questa è una coppia che è una coppia che ha delle difficoltà da un bel po' di tempo da quello che vedo se state insieme da poco tempo si tratta comunque di dinamiche che vi portate dietro dal vostro passato e dalle vostre relazioni precedenti ma per quelli invece che stanno insieme da un po' qui si tratta di dinamiche che non vanno da un bel po' di tempo e che non sono ancora state risolte nonostante magari ci siano stati dei tentativi però uno dei due adesso ha la sensazione che queste dinamiche non si risolveranno mai e quindi onestamente nemmeno ci prova più a risolverle ma semplicemente fa la sua parte quindi fa la sua parte fa la persona presente innamorata che desidera quello che ha e che magari prova piuttosto con delle piccole cose piuttosto che con delle grandi cose perché se ci sono dinamiche che non vanno da tanto tempo e non si sono ancora risolte forse è meglio andarci a piccoli passi forse è meglio fare un passettino alla volta piuttosto che pretendere di poter risolvere tutto subito non funziona così non è così semplice il mondo delle relazioni non è così semplice bisogna darsi il tempo bisogna riconoscere le tempistiche di se stessi e degli altri e quindi darsi il tempo di capire cosa fare e come farlo e dato che appunto ci sono degli impedimenti a risolvere la radice e questo qualcosa piuttosto si lavora sulle piccole cose dall'altro lato invece abbiamo una persona che abbiamo una persona un po' più scocciata un po' meno amorevole un po' meno amorevole e un po' più scocciata abbiamo una persona che però è disposta comunque a lasciare andare le problematiche è disposta a mollare le problematiche anzi sembra proprio che voglia lasciarle andare e che non voglia proprio pensarci più vuole togliersi un peso vuole togliersi dei pensieri dalla testa e quindi piuttosto perché no andiamo avanti così ok andiamo avanti così e cerchiamo di prendere ciò che c'è di buono e non solo cerchiamo di prendere ciò che c'è di buono ma lo facciamo anche con il buon umore quindi mettiamo il buon umore in quello che c'è nei bei momenti e viviamo e godiamoci di questi bei momenti pur sapendo che comunque ci sono sempre lì quelle dinamiche che vanno in ogni caso attenzionate e che prima o poi prima o poi avremo l'occasione di risolvere definitivamente anche perché se ciò non dovesse accadere purtroppo l'alternativa potrebbe solamente essere quella di tirare su qualche barriera di troppo e qualche barriera di troppo significa parlare meno tenere delle cose per sé a volte anche dei segreti quindi no ecco non è questo secondo me il comportamento più adatto anzi semmai qui bisogna davvero lavorare sul mettere di lato le cose che per adesso non si possono risolvere e focalizzarsi sulle piccole cose appunto su un passettino alla volta con il sorriso perché comunque questo è il bello di stare insieme riuscire anche a gioire delle sfide che la coppia ci mette di fronte sì sicuramente mettere le nostre barriere al momento giusto quando sentiamo il bisogno di farlo quando sentiamo a volte sentiamo il bisogno di tirare su un muro e va anche bene perché magari questo muro può servire all'altro per comprendere i suoi errori ma comunque è un po' come usare il bastone e la carota bisogna saperli dosare invece passiamo adesso per chi è single questo è un qua per chi è single vedo una fortissima attrazione sessuale verso una persona e vedo un grandissimo desiderio di riuscire tra virgolette a incastrare quella persona quindi potrebbe potreste essere voi che avete questa fortissima attrazione verso qualcuno oppure potrebbe essere qualcuno che la manifesta verso di voi questo mese ma vi posso garantire che l'energia sessuale si taglia con il coltello cioè talmente densa che da parte di uno dei due si taglia proprio con il coltello ma non si tratta solo di attrazione sessuale cioè onestamente qui si tratta di sentimenti e tra l'altro o si tratta di sentimenti che vanno avanti da un po' e che quindi hanno proprio maturato una loro realtà oppure si tratta di sentimenti che pur essendo nati da poco sono maturi vengono da una persona matura in grado di amare solo che c'è quello che vedo l'impedimento che vedo è un po' uno scoraggiamento perché questa persona che ci tiene così tanto ha la sensazione di non riuscire ad ottenere quello che vuole e quindi da un lato è un po' scoraggiata non sa che pesci prendere dall'altro lato tenta di fare delle piccole cose per avvicinarsi all'altro tenta di fare magari dei piccoli gesti perché i grandi gesti in questo momento non funzionerebbero probabilmente per chi è single per alcuni single c'è stata una lite o potrebbe questo mese esserci una lite quindi state molto attenti sempre ripeto all'ambito delle comunicazioni per qualcuno di voi per qualcuno di voi single c'è una situazione nella quale magari chi è più innamorato sta un po' chi è più innamorato sta un po' cominciando a comprendere che il suo desiderio non si realizzerà tanto facilmente e non subito perché dall'altra parte c'è una persona invece che ha messo su delle barriere o che sta mettendo su delle barriere quindi se avete litigato o se litigherete questo mese con qualcuno a cui tenete state attenti perché uno dei due voi o l'altro potrebbe mettere su delle barriere potrebbe proprio avete presente ti blocco su whatsapp ti blocco su facebook ti blocco su instagram ti cancello dai miei social non mi chiamare più magari non così estrema la cosa però sì per qualcuno sì sì per qualcuno sì c'è proprio un po' di in realtà però è solo un desiderio per la maggior parte di voi io vedo che questo è solo un desiderio è il desiderio di mandare al diavolo l'altro può essere vostro può essere dell'altra persona con cui state interagendo non importa ma c'è il desiderio di mandare al diavolo l'altro ma non l'azione non il gesto vero e proprio perché c'è questa sensazione di squilibrio di squilibrio nel dare e ricevere di squilibrio nel provare emozioni uno prova di più e l'altro prova di meno e quindi ecco per qualcuno di voi ragazzi c'è proprio un'arrabbiatura cioè qualcuno di voi ha fatto incazzare di brutto una persona o magari è incazzato di brutto con qualcuno ed ecco che questa cosa non viene non viene mostrata al 100% non viene manifestata alcune cose non vengono dette ma vediamo adesso per i single questa parte ragazzi come sempre vi dico è creata apposta per i single ma anche chi è in coppia consiglio di guardarla soprattutto se state interagendo con diverse persone ovviamente se volete una sessione privata vi ricordo di inviare un'email per diventare studenti stessa cosa andate sul sito dove trovate tutte le informazioni con i pacchetti che comprendono coaching e analisi karmica trovate le descrizioni di tutti i nostri corsi quindi sentitevi liberi di spulciare il nostro sito internet e di dare un'occhiata alle vostre alle vostre cose preferite o a quello che vi serve in questo momento ma nel frattempo io mescolo le mie cartine e aspetto da loro uno stop aspetto che mi dicano siamo pronte per la lettura quindi vediamo un po' che cosa accade nell'incrocio fra il segno dei pesci e i dodici segni dello zodiaco per questo mese quali sono le energie in movimento ok pronti dunque per chi di voi ragazzi ha a che fare con una riete con la riete c'è una questione di fiducia e dovete comunque comprendere se vale la pena o non vale la pena perché quando non c'è fiducia forse la cosa migliore è lasciare andare con il toro beh appunto anche qui questioni di fiducia qualcuno non è onesto al 100% e questa cosa sarebbe da chiarire e da vedere con il gemelli siamo proprio nel bel mezzo di un contratto karmico cioè c'è un insegnamento da prendere prima di poter andare oltre il cancro è un po' confuso e non sa quello che vuole con il leone avreste bisogno di comunicare un po' più apertamente e liberamente senza paura delle conseguenze la vergine in questo momento è una persona emotivamente instabile la bilancia ha bisogno di tempo per decidere, per capire più che altro lo scorpione no vabbè con lo scorpione no ragazzi uno dei due sta prendendo in giro l'altro o lo scorpione vi sta prendendo in giro non c'è una bella energia il sagittario sente la vostra mancanza però decide comunque di andare oltre il capricorno invece non riesce a lasciarvi andare nonostante tutto sta ancora lì l'acquario vorrebbe una pausa e invece se avete a che fare con un altro pesci state attenti perché uno di voi due sta avendo degli atteggiamenti molto egocentrici un po' egoisti comunque ecco sta pensando molto forse troppo a se stesso e c'è da fare attenzione a questa cosa a non assecondarla e per quanto riguarda il consiglio degli angeli wow abbiamo un bel tre d'acqua che non è male ci saranno dei festeggiamenti ci saranno delle celebrazioni quindi potrebbe essere proprio un mese nel quale magari vi ritroverete a festeggiare una nascita, una laurea, un matrimonio un raggiungimento, un traguardo o comunque se non è questo se non si tratta proprio di un festeggiamento in particolare questo è un mese sicuramente in cui l'universo vi dice divertitevi ragazzi perché avete veramente bisogno di divertirvi e di svagarvi perché avete accumulato comunque stress di vario tipo e adesso potete avere proprio l'occasione per lasciarlo andare gran parte di questo stress e per godervi invece quello che meritate con gli amici, con le persone con cui avete più feeling quindi divertitevi ragazzi bevete anche un drink di troppo se vi capita per il resto io vi mando un saluto e ci vediamo alla prossima